Che cosa stai facendo? Mi sto per rimettere ai fornelli Questa volta devo fare un menù un po' più complesso Perché volevo provare questo che abbiamo comprato su Pat Pat Che è per tagliare i ravioli Io non ho mai fatto la pasta farcita fatta in casa Quindi voglio provare, sperimentare prima di San Valentino Perché non vorrei che poi San Valentino li prepari una schifezza Ti posso fare una domanda prima di iniziare? Ma tu hai un codice sconto su Pat Pat Assolutamente, codice sconto Gettina 15 Quindi se andate a comprare delle cosine per la casa, per la cucina Ma anche per i bimbi, per i papà, per le mamme Codice sconto Gettina 15 per mamma Codice sconto Gettina 15 E taggateci su mamma No su mamma, su Instagram, Lost in Family Senti che hai le orecchie un po' da... Elfa Elfa, sì Sì lo so perché ho i capelli sporchi E me li devo lavare E quindi mi faccio il doccia dopo Iniziamo dai Stai facendo il zoom sul mio cuore? No, in realtà mi stavo allontanando dal tuo cuore Mai amore Ti devi mai allontanare dal mio cuore Come voglio fare questi ravioli? In realtà per San Valentino li farò diversi Non ve lo svelo perché sennò mi rovino la sorpresa di Alessandro Ma li voglio fare già diversi Per domani voglio preparare dei ravioli farciti con funghi Funghi misti, porcini e non E farò come sugo stracchino e salsiccia Cioè secondo me viene una bomba Mi dimmi salsiccia? Salsiccia Hai visto? Non ho detto salsiccia Eh, salsiccia è romano eh No, salsiccia Farò direttamente i ravioli oggi per cuocerli poi domani a pranzo Iniziamo? Per prima cosa iniziamo a pesare la farina Aspetta ma non manca qualcosa? Che manca? Non ti sei accorto di niente? No, hai tutto Il cerchietto Ti piace? Che cos'è? È un grembione preso su pat pat Fuori sconto, gettina 15 Molto carino Grazie, abbinata la cucina Vabbè, rimbocchiamoci le maniche Iniziamo questa volta, seriamente Farina Quando faccio la pasta fatta in casa Di solito le faccio sempre un pochino di più Così la congelo Avendo lavorato in un pastificio Sono abituata a fare quantità di pasta un pochino più grandi Così poi congelo E per la prossima volta avrò già i ravioli fatti con i fumi Speriamo che vengano Perché sennò ci sarà un bel disastro Però io metto 700 grammi di farina Con 700 grammi di farina Ci andrebbero 7 uova Io qua ne ho 6 L'altra la prendo Io mi sono resa conto Di avere sbagliato ieri Perché ho preso due confezioni di speck Quando a me serviva uno speck e un prosciutto Quindi guardate che io non ho la cena stasera Devo fare pure le mie anzare Ma che è? Hai recuperato il tuo uovo? 7 uova Forchetta Facciamo una bella fontana Non essendo su una spianatura È un buco E rompiamo le uova Vado? No perché si sporca Mi dispiace Ah il pizzico di sale Come faccio a prendere il pizzico di sale? Grazie Il nostro cameraman Amo un po' di più 700 grammi di farina 7 uova Ci metti quel coso Troppo Mescoliamo 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 Salute piccole Tommy La pasta va lavorata bene Amata ma non stressata Quindi a un certo punto Quando la vedete che sta bene Che è pronta La mettete in frigo Con la pellicola trasparente E la lasciate riposare 30 minuti Che fate in questi 30 minuti? Riparate in pieno E poi Noi Visto che è come al solito Vi faccio 100 cose insieme Voglio preparare anche il secondo Il dolce Sempre per domani Perché è domenica E quindi c'è un bel pranzetto Ma che dobbiamo fare? Doviamo far vedere subito Anche il secondo Il dolce Oppure saranno delle prossime montate Di ricerca senza nome La pasta è pronta La ricopro con La pellicola trasparente E va in frigo 30 minuti Alexa Imposta timer 30 minuti 30 minuti A partire da voi Ma quando io faccio questa cosa Quante delle vostre Alexa Sono partite a casa? Scrivetecelo qua sotto Sì È sempre lei La padella di crack Siamo un aglio Due agli Due agli Schiacciati Ma non tagliati Non tritati Perché non mi piace Che sia troppo forte In questa padella Aggiungiamo L'olio E i funchi Che vanno in padella E poi saranno Il nostro frivieno Che mi sa che è troppo piccola La padella di crack No Cracco c'hai la padella piccola Cioè ho comprato Ce l'hai piccolo Cracco No amore Ho comprato io quella piccola Cioè Ho ricevuto la befana Quella piccola Prima che ti sporco Cracchina Prendo la padelluna Di chi è la padelluna? Mia Sì è molto meglio Olio extravergine d'oliva Ma che cosa stai facendo? Le forbici Erano troppo lontane Questa era più vicina Quindi l'ho presa La donna dei coltelli So pigra Ora i funghi porcini Secchi Conad Li mettiamo dentro Ad una tazza Con l'acqua calda In modo che Piano piano Si ammorbidiscono E soprattutto Rilasciano tutto quanto Il saporino buono Di funghi porcini Ammazza Già sono finiti Reidratatevi Che cosa sta succedendo? Ho un dubbio Secondo te È meglio fare Ripieno Stracchino Il ripieno e salsiccia E il sugo Ai funghi Oppure Il ripieno ai funghi E il sugo Stracchino e salsiccia Non ci ho capito niente La seconda Perché è quella che stavo a fare Non mi fai cambiare ricetta No la seconda Scusa I ravioli sono ai funghi E il sugo E con la salsiccia E lo stracchino Ti piace? Sì Però nei funghi Secondo te Ci posso mettere un po' di pecorino? Sì Volevo Voi vi siete persi Romano? Romano Voi dovete sapere Che Alessandro Metterebbe il pecorino Anche nel caffè latte Che coltellone uso stavolta Dai Ma che è sta cosa Detaglia le buste Con i coltelli? Che comodo Questo Si deve un attimo Dorare Vi faccio vedere La mia tecnica Lo sai perché Si fa così? Perché? Perché in questo modo Tutto l'olio Si insaporisce Con l'aglio Altrimenti Se sta piatta Ci sono delle parti d'olio Che non incontrano Proprio l'aglio Aggiungiamo i funghi Povero fungo Ma che Mica si butta Unisci i tuoi simili Anche tu Dov'hai? Che scappi Pensi? Tu? La fuga dei funghi Stai a fare l'ognorri? Credo proprio Visto che abbiamo questi 30 minuti Per la pasta in frigorifero I funghi anche Che si devono cuocere E i porcini Che si stanno reidratando Non posso stare ferma Perché devo fare tantissime cose Quindi Io direi Di iniziare E anche gli spietini Che però vedete In un altro video Di ricette senza nome Quindi adesso Continuiamo con i ravioli Però voi commentate con E no E gli spietini Questi ancora devono cuocere Aggiungo Del brodo vegetale Knorr Madonna che tuffo I funghi e i porcini I funghi e i porcini Dopo le terme Sono pronti E quindi Li metto insieme A tutti gli altri Fratellini Spizzate un po' L'acqua dei funghi e porcini Non la buttate Mi raccomando Io mi sono Ricordata ora Che non ho tolto L'aglio Dalla padella Quindi dobbiamo andare A caccia d'aglio Eccolo Aglio Rimosso Procediamo al taglio Però prima Alessandro Assaggia No no Non ho mangiato la meringa Un fungo Non ho mangiato la meringa Non si può cucinare Senza assaggiare Assaggia tu Io sto dietro Taglio i funghi Al coltello Non mi va di Sminuzzarli troppo Perché mi piace proprio Che si senta il fungo Dentro al raviolino Quindi Vado un po' così A spiacciutare Nel ripieno Che sarà di funghi Gritati E aggiungo Pecorino E Parmigiano E' il momento Di fare sul serio E' ora di stendere La pasta E' troppa Ovviamente Non la posso stendere Tutta Quindi Coltello E ne taglio Una parte Io di solito Già mi creo Una forma rettangolare Così è più semplice Da stendere Sia col mattarello Che soprattutto Con Nanna papera Ho tirato La sfoglia Il più sottile Possibile Con questa macchina Allora Dispettoso Non l'ho mai fatta Quindi non mi Non mi ha Sacrete Buoni i funghi Mamma Allora proviamo a fare Questa prima parte Vediamo come vengono Salute Provo a fare Questi primi cinque Però Prima va Pre Ah mi è scorchia tutto Prendo un goccino D'acqua I bordi Vanno bagnati Se no Non si incolla La pasta Quindi Con il dito Vado a fare Un po' Il perimetro Intorno ai funghetti Adesso Una volta bagnati I bordi Va posizionata La pasta Sopra A ricoprire Piano piano Andiamo a Chiudere intorno A dove sta Il ripieno Ok Proviamo Aiuto Ma se li faccio Così Forse è meglio C'è il cuore Non lo so Secondo voi C'è il cuore Un pochino Dai C'è il cuore Ma Il secondo Molto meglio Amore Sei pronto Ho trovato la tecnica Avete la tecnica Voi Andate vicino E arriviamo Poi Piggiate a morte Piggiate 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 Poi Ciao 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 Si è staccato Tutto Poi delicatamente Lo sollevate E si ripone Qua in mezzo Alla palina Acceleriamo Come per magia Ci saranno tantissimi Raioli a forma di cuore Ma tanti Tanti Per ora Ho fatto questi Raioli qua Non so neanche quanti sono Mi manca Questa sfoglia E questa E poi ho fatto Andiamo a dormire Andiamo a dormire Perché è quasi l'una Però amore Non hanno tanto La forma di cuore No Non mi viene così Vi sembra un cuore a voi Forse questo È l'una E quaranta È ora che me ne vado a letto Si è fatto veramente tardi I ragazzi sono su che dormono Io ho pezzi di funghi Dappertutto Ho dato una sistemata Perché c'era veramente Un inferno Di piatti E di cose da lavare E adesso direi che Ora di andare a dormire Ci vediamo domani Con il risultato Speriamo che almeno Si è venuto tutto bene E che i ravioli Piaggiano ad Alessandro Muore È il momento Di preparare il sugo Per i ravioli Ho messo in padella Un goccino d'olio La salsiccia Normale E la luganega In realtà ne ho messe due Luganeghe Luga Lugane Vabbè quelle Ne ho messe due Ora la sto facendo Cuocere In modo da poterla Rompere A pezzettini Piano piano Vedete Mi è rimasto Un pochino di ripieno Dei funghi Ma proprio pochissimo Pochissimo Che faccio Butto? Vai Vado Tanto comunque Non ci stanno male Io dico vai a tutto Basta che si mangia Ecco Quando la salsiccia È ben cotta It was at this moment That she knew She fucked up Salsiccia hai detto Ho detto salsiccia Rewind Quando la Tu l'hai detto Ho detto sal Però Cioè era l'inizio Salsiccia Se siamo qui Altre due ore Parte con starciccia Ma che ne ti ridi tu Ridisente La salsiccia Sarà ben cotta Aggiungiamo Vuoi dire Del vino bianco Sì Ci starebbe bene Anche il vino bianco Però io mi sono lasciata L'acquetta Dove hanno fatto Il bagno I porcini Quindi ci metto L'acquetta dei porcini Ma non è acqua sporca No Cerciavano i gherizzozzi I porcini Diamolo pure i porcini Infatti lo sai cosa fanno Due maiali su un divano Senti cosa di porcino Che fanno due maiali su un divano I porci comodi Ah vabbè Comunque sa molto di fungo Vuoi sentire? Qua hanno fatto il bagno I porci Sì sì La salsiccia è bella croccantina Cotta E quindi buttiamo dentro Magari senza la plastica Lo stracchino Però per farlo sciogliere Utilizziamo un po' D'acqua Che sarà per la pasta Vediamo come si è squagliata bene Lo stracchino E poi il microfono ha smesso di funzionare Si è scaricata la batteria E quindi silenzio Però Dobbiamo intervenire dal futuro Per dirvi che cosa Che cosa hai fatto poi alla fine Ho messo i ravioli Nell'acqua bollente salata Ovviamente L'ho cotti per 4-5 minuti Da poterli ho mantecati Con il sughetto di salsiccia E stracchino Serviti con un po' di pecorino Erano una bomba Devo dire Davvero buoni Li dovrei rifare anche Li fai a San Valentino? Assolutamente si L'ho promesso Però saranno diversi Aspetto di vedere Sono curioso E che altro ci devi dire? Mi raccomando Ovviamente Se li provate Taggateci su Instagram Perché voglio vedere voi come li fate Anzi Se avete dei suggerimenti Per il ripieno E anche proprio per il piatto In generale Per questi ravioli farciti Scriveteci su Instagram Perché io li voglio proprio provare E li voglio specializzare Nella pasta ripiena A forma di cuoricino Quindi questa rubrica Si aggiorna Con un prossimo episodio Dove Federica vi farà vedere Cosa ha preparato Di secondo E di dolce Ciao Ciao